La diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro si è giudicata due importanti premi indetti dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa in collaborazione con l'Ufficio Catechistico Nazionale e la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Il riconoscimento è stato conferito ad Abano Terme nel corso del convegno nazionale degli incaricati diocesani per il servizio del sovvenire. Il premio è andato al progetto realizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo e dall'Ufficio Catechistico Diocesano intitolato non di solo pane, formazione catechistica con responsabilità economica e partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa. Spesso si ha una conoscenza solo settoriale di questo servizio sociale, chi è nella scuola cattolica sa della scuola cattolica, chi è nella sanità cattolica sa della sanità cattolica, però è difficile per un cattolico, e questo l'ho constatato più volte girando un po' per l'Italia a presentare il libro, avere una dimensione globale. L'altro riconoscimento è stato conferito al settimanale dei cattolici della nostra regione, Toscana Oggi, per la pubblicazione di un articolo sul recupero della sede della Caritas diocesana che ha permesso di migliorare l'accoglienza dei richiedenti aiuto, le condizioni lavorative degli operatori e attivare nuovi importanti progetti. Noi non possiamo non raccontare queste storie, dobbiamo far conoscere a questo paese come nelle diocesi si tiene in piedi un patrimonio notevole, come le opere vengono realizzate grazie ai fondi dell'8x1000 e come anche i sacerdoti che operano spesso in prima linea nelle nostre parrocchie, nei nostri comuni, nelle province di questo strano paese operano grazie ai fondi che vengono ad essi destinati. grazie a tutti